Musica 700 gli spettatori sugli spalti del Degli Olivetti per il recupero infrasettimanale della terza di ritorno. Di fronte le due immediate inseguitrici dell'atletico Betto Laponte Pro Piacenza, Massese e Tutto Cuoio, tra i nero-verdi Alvini preferisce Granito a Falchini, autore del gol Vittoria nella gara di andata. Nella Massese Tazzioli ripropone titolari Zambarda, Biagini e Vignali tenuti in panchina a Rosignano. L'arbitro è colui che dieci giorni fa decise per il rinvio, Sprezzola, della sezione di mestre. Primo tempo molto tattico con rare occasioni. Al quattordicesimo episodio dubbio in area a Puana, Bugliani intercetta con un braccio il cross di Colombo, ma Sprezzola lascia giocare. Concedere il rigore non sarebbe stata un'eresia. La Massese gestisce il possesso del pallone, ma le polveri degli avanti bianconeri sono bagnate. Poco dopo la mezz'ora due tentativi dei Pisani con Colombini e Colombo. In entrambi i casi le conclusioni non trovano lo specchio della porta. Al quarantaduesimo ci prova da fuori Bartolomei, ma la palla si perde abbondantemente oltre la traversa. Comincia bene la ripresa per la Massese che con una punizione di Bartolomei sfiora il montante. Al quattordicesimo la partita si sblocca, Colombo da destra pesca in area Granito, che con malizia anticipa Bugliani e batte Sannino. La Massese non demorde e comincia il forcing. Al ventesimo Tozzi centra il palo e sulla respinta Maionchi nega la gioia del gol a Marino Taddeucci. Al ventiquattresimo Colombo di testa sfiora il raddoppio. La Massese attacca e al trentaquattresimo pareggia. Maionchi sbaglia il rinvio regalando palla a Cecciarini. Il centrocampista trova in area Taddeucci che apre alla corrente Lombardi, che con un diagonale di sinistro fulmina Maionchi e ripristina la parità. È il sesto gol stagionale per l'ex giocatore del Riccione, il primo con la maglia bianconera. Al trentatesimo Vignali sfiora l'erogol con un destro al volo che tocca il palo esterno con Maionchi immobile. Tante le mischie in area ospite senza esito. Al quarantesimo Taddeucci ci prova in girata, palla alta di poco. Nel finale due occasioni per gli ospiti. Al quarantaduesimo Colombo prova a sorprendere Sannino con un pallonetto, ma il portiere Apuano è attento. Poco dopo Della Maggiora è bravo a chiudere su Granito. Finisce uno a uno senza vincitori né vinti. La classifica rimane inalterata con l'Atletico BP Pro Piacenza, che mantiene il vantaggio di quattro punti sul Tutto Cuoio e di sette punti sulla Massese. Domenica la formazione Apuana tornerà a giocare davanti al proprio pubblico contro la Virtus Castelfranco, cercando di approfittare dello scontro diretto tra Tutto Cuoio e Atletico BP Pro Piacenza, in programma alle Poraglia.